Corner! Un corner gagliardo dopo la prestazione del derby della Provercelli che spugna il campo di Novara per 1-0. Una Provercelli che ci ha fatto soffrire un pochettino ma alla fine è venuto fuori con questo gol di Morra su cross di Ghiglione che ha insaccato. Paolo Gaglione, Valteria Caccia, che partite avete visto? Ho visto un grandissimo secondo tempo della Provercelli e se dobbiamo fare una critica a questo secondo tempo l'unica roba che non ha trasformato tutte le occasioni che ha avuto a disposizione era più giusto un 2-0 come risultato finale. Una Provercelli che avevo l'impressione, l'avevo anche detto, nel primo tempo probabilmente si portava un po' nella testa la sconfitta subita in casa con il Foggia. Nel secondo tempo ha giocato con più determinazione senza sbilanciarsi, senza sprecare molte palle. Ha provato ad essere più efficaci in profondità, ha trovato il gol e poteva trovarne sicuramente un altro per far chiudere la partita con più tranquillità. Ma le cose più belle sono quelle sofferte, quindi ci accontentiamo di un gol solo e di tre punti che scacciano un po' così la crisi da casa Provercelli. Ecco, una Provercelli che arriva al derby con mille dubbi, una Provercelli che comunque ha giocato bene. Un'occasione sul pasticcio difensivo del Novara che purtroppo non è stata raccolta da Firenze che sottoporta che la difesa del Novara è riuscita a salvarsi. Beh, alla faccia dei rosiconi, dei gufi, di quelli che criticano sempre la Provercelli, di quelli a cui non va mai bene niente, al giocanè in cosia, al giocanè in cosà. Eh no ragazzi, purtroppo oggi abbiamo vinto, tutti sul carro, saliamo. Invece, purtroppo non è così, perché io mi ricordo, perché seguo la trasmissione, anche quando non posso venire, quindi vi seguo molto, e tu lo sai Nicola che non mi trovano d'accordo quasi mai su alcune cose che dicono, perché il calcio è bello, è bello parlarne, ma bisogna anche saper aspettare delle volte. E in tutti questi anni ce l'hanno sempre dimostrato i fatti che si sono salvati. Se voi andate a guardare tutte le squadre della Serie B, ci sono quasi tutti i giocatori che sono passati dalla Provercelli. Quindi vuol dire che anche il mercato in questi anni non è mai stato fatto in maniera, come si può dire, scriteriata. Anzi, è stato fatto molto bene. Ho la dimostrazione che va su un campo del Novara, dove il basso è di gran lunga superiore a quello del Novara rispetto a quello della Provercelli, ma il lavoro paga, secondo me, come ha pagato gli anni scorsi. Oggi è stata una bellissima Provercelli, poteva finire 2-0. Io già al primo tempo avevo detto che comunque sia chi meritava di andare in vantaggio era la Provercelli. Il secondo tempo l'ha confermato, con un bellissimo gol su un traversone di Ghiglione, colpo di testa di Morra, potevamo fare il 2-0 in più episodi, non abbiamo risposto quasi nulla se non in qualche mischia, per cui ci sta il risultato, una grandissima Provercelli. Devo dire che vedere anche gli spalti, la curva del Novara, gli ospiti, vedere tanti tifosi della Provercelli così, per me è un orgoglio, perché è veramente una soddisfazione. Per cui oggi è andato tutto bene, ma io devo tornare indietro anche con la memoria le partite col Bari, con il Foggia. Io mi ricordo il primo tempo di Bari, è stato un primo tempo bellissimo, poi sono dovuto andare via, sono andato via sul 2-1 per il Bari, meno male che abbiamo pareggiato. Col Foggia, finché si è rimasto in 11 contro 11, avevamo giocato molto meglio noi, poi naturalmente in 11 contro 10 siamo un po' calati, ma nonostante questo il 2-1 è scaturito per una disattenzione di Bruno. Per cui sono tutti piccoli episodi, però il gioco c'è, Grassadonia secondo me sta facendo molto bene, per cui aspettiamo prima di dare sempre dei giudizi negativi, che in queste settimane, in questi due mesi, ne ho sentite veramente tanti di giudizi negativi verso questa Provercelli, verso questi dirigenti. Aspettiamo un attimo. Ecco, giudizi negativi e giudizi positivi. Giudizi positivi oggi, chi in campo ha dato maggior contributo? Ma guarda, io non farei una graduatoria di nomi in casa Provercelli. Mi rilascio a quello che aveva detto Walter nel corner di metà tempo, quando parlava di lavoro scuro, di giocatori che si sono sacrificati. Oggi la Provercelli è giocato da squadra. Mi ripeto, al primo tempo è un po' timorosa, ma ci sta anche perché sei in trasferta, hai perso 4-1 in casa e quindi è un derby e non si sono sbilanciati. Nel secondo tempo ho con molta più personalità e quindi non mi sento di fare una graduatoria di meriti e di dire questo ho giocato meglio di quell'altro. Hanno giocato da gruppo, come dovrebbero sempre giocare, e hanno raccolto una vittoria, un gruppo, tutti insieme. Una squadra che oggi si è dimestrata estremamente attenta e estremamente determinata, specialmente nel secondo tempo. Ecco, un gruppo. L'importanza del gruppo. Abbiamo visto anche a fine partita tutti i giocatori abbracciare Grassadonia e Grassadonia, diciamo, abbracciare ancora più forte legati, legati che oggi ha sicuramente contribuito in modo significativo alla tenuta della difesa. Sì, assolutamente. Oggi hanno giocato tutti bene, insomma, non ha sbagliato niente, nessuno. Io se devo fare un nome lo faccio, lo faccio volentieri, ed è proprio il nome di Grassadonia, perché questo allenatore bistrattato, anche domenica, perché non faceva entrare Castiglia, perché ha tolto Vives, perché, perché, perché. Lasciamo sempre lavorare le persone, i professionisti. Ricordiamolo a tutti che per allenare la Provercelli in Serie B devi avere un patentino, e il patentino lo si prende se si studia. Quando si fanno parole da bar è un conto, quando si entra poi nel campo dei professionisti, bisogna lasciarli lavorare, secondo me. E Grassadonia, se noi lo lasciamo lavorare, secondo me, ci toglieremo e ci farà togliere delle grandissime soddisfazioni. Per cui, secondo me, oggi Grassadonia va al merito di questa vittoria, perché comunque sia ha messo in campo una formazione diversa rispetto a quella che aveva messo in campo con il Foggia. E quindi, io dico che tanti all'inizio della partita, nella loro testa, dicevano perché fa giocare Morra, perché fa giocare Firenze, perché fa giocare Altobelli. E invece era avuto ragione lui su tutto, perché fa giocare Ghiglione in basso a destra, quando lasciano Riberra. E invece, evidentemente, lui che vede i giocatori tutta la settimana, non ci azzecca nulla, ma riflette, vede, valuta e decide. Meno male che è così. Ecco, a proposito di chiacchiere da bar, volevo così, ricordare che la settimana scorsa, proprio Elia Legati, era stato, insomma, come dire, maltrattato mediaticamente da Savoldi in Bizzona, dicendo che il giocatore così non era degno di Serie B, mentre invece quest'anno, ma come tante altre volte, ha dimostrato la sua capacità di reggere la Serie, soprattutto di tenere la Provercelli in una situazione sicura in difesa. E quindi ci sta che i giocatori a volte sbaglino le partite, ma l'attacco alla persona è sempre una cosa decisamente scorretta. Ecco, ci sono stati dei cambi. Oggi abbiamo visto entrare in campo Polidori, Polidori che era la punta che la Provercelli ha tanto voluto anche lo scorso anno, che era arrivata e che finalmente è arrivata alla Corte di Grassadogna soltanto quest'anno, che però ha tuttora poco minutaggio nelle gambe. È un giocatore che è stato cercato, come dici tu, lo ha messo il direttore sportivo in conferenza stampa già due anni fa dalla Provercelli, è un giocatore giovane, è un giocatore che ha bisogno di fare esperienza, è un giocatore che ha bisogno di fare minutaggio. Tornarei su Elia Legati. Elia Legati non è Beckenbauer, per carità, lo sappiamo tutti. È un giocatore arcinio che sa giocare bene in una posizione specifica del campo, può fare la Serie B, se gioca nel suo ruolo. Come quasi tutti i giocatori di Serie B, è difficile mettere i giocatori fuori ruolo e pensare che giochino bene. Contro il Foggia, per me, ha giocato una partita sufficiente, non ha commesso un rimpallo, gli ha mandato la palla sul braccio, è avuto fuori il rigore, sono cose che nel calcio succedono e ci stanno. Per quanto riguarda Polidori e altri giocatori che ancora hanno giocato poco, bisogna avere il tempo di vederli. Per me, nel turnover, deve entrare anche Polidori, come gli altri che hanno giocato di meno, perché un campionato in 14-15 non si può fare, bisogna farlo con una rosa un po' più ampia. I giocatori ci sono nelle fila della Provercelli. Sicuramente, ripeto quello che ho detto sabato scorso, o i giocatori non sono all'altezza di giocare, o l'allenatore non li vede. Mettiamola così, la situazione è quella. Resta fuori dubbio che comunque la Provercelli, ma come tutte le altre squadre che fanno la Serie B, dovrà andare al mercato di metà anno con un paio di innesti. Per fare questi due innesti bisogna essere consci di quello che si ha in casa, del reale potenziale di tutti, non solo degli undici titolari. Questa è una cosa, mi sembra di dire una banalità. Io a volte la ricordo, perché è giusto ricordarla. Chiaramente non c'è nessuna squadra. Abbiamo Walter, che partecipa a trasmissioni telefitivi, dove si parla di squadre di Champions League. Non è che Balcerrona, Real Madrid, Manchester, Chelsea, la Juve, fanno sei acquisti e li indovinano tutti. Questo non esiste nel calcio. Il calcio vince chi sbaglia di meno. Chi sbaglia di meno è oggi la Provercelli, non ha sbagliato veramente nulla nell'impostazione tattica. Un'impostazione tattica è questa di Grassadonia, che vede la palla sempre in attacco e i passaggi in verticale. Oggi, tutto sommato, si è confermato questa impostazione. E rispetto alla partita con il Foggia, dove sull'1-0 abbiamo acquisito più una posizione sulla difensiva, in realtà siamo ancora andati avanti, sbagliando anche il gol. Con la bella parata del portiere del Novara, suo tiro di Castiglia e assist di Bifulco. Sì, ma io devo dire che anche la partita con il Foggia, io mi ricordo che c'era un episodio analogo, poi al rigore dato al Foggia, quindi vuol dire che l'arbitro ha visto due situazioni diverse, che per me erano molto simili. Cosa voglio dire? Che comunque si è attaccato anche con il Foggia, perché il campo era totalmente della Provercelli in casa con il Foggia. Ahimè, poi c'è stato il rigore, l'espulsione. Però io devo dire onestamente che è vero quello che dice Paolo degli acquisti, di acquisti, ma io in tutte le partite che ho visto nella Provercelli ne ho viste 4-5 dal vivo e l'ho visto comunque contro squadre di tutto rispetto, perché il Frosinone, secondo me, mi sembra che oggi è il primo in classifica da solo, se non sbaglio. L'ho vista contro il Bari, dove il Bari ha speso qualche milione di euro per fare la squadra. Non li ho visti così, come si può dire, sottomessi a questi squadroni che naturalmente devono, per forza, quando spendi 20 milioni di euro, cercare di andare in Serie A. Non ho visto una differenza tale da poter dire che ci sono alcune lacune a livello proprio di giocatori, perché comunque sia, secondo me, hanno dimostrato, comunque sia, a questi giocatori di poterla fare la categoria e farla veramente in un modo significativo. Poi, io mi ricordo di Sprocati, che qui a Vercelli si diceva peste e corna di questo giocatore. Adesso, Caraccio, voglio dire, però Sprocati è quello più qui dietro l'angolo, perché fino a poche settimane fa era a Vercelli, si diceva corna e peste. E invece adesso cosa si dice? Che è il migliore della Salernitana. Ragazzi, però dobbiamo intenderci, perché se poi Palazzi si dice che va al Pescara non farà neanche una partita poi a titolare a parte l'infortunio che ha avuto. Poi vediamo che Luperto gioca qualche volta sì e qualche volta no. Prove delle titolari inamovibili. Lamantia, Lentella, Ardizione, Lentella. Insomma, di giocatori ne sono passati a Vercelli. Alcuni buoni, alcuni meno buoni. Ma io questa rosa, secondo me, è di tutto rispetto, assolutamente, perché vedrete Raicevic, perché Raicevic, secondo me, non vorrei sbagliarmi, ma qualche anno fa era sotto la lente di ingrandimento di qualche squadra blasonata di Serie A. Quindi se era buono per la Serie A, ma di qualche squadrone di Serie A, non è diventato una pippa tutto in un tratto. Assolutamente. E oggi l'ha dimostrato, perché oggi anche lui ha fatto un grandissimo lavoro finché è rimasto in campo. Per cui io non sottovaluterei assolutamente la rosa che c'è attualmente alla Provercelli. Poi si può sempre cambiare in meglio, però secondo me cambiare, tanto per cambiare gennaio, come diceva Paolo, aspettiamo un attimo, perché non sai mai poi chi prendi. Cioè l'erba del vicino delle volte è sempre più verde, ma delle volte diventa poi gramigna. Sì, noi a gennaio tutto sommato abbiamo sempre fatto un buon, un discreto mercato. Detto che adesso è anche presto, ma tu chi inseriresti? Non come nomi, perché se non è fare i nomi in questo momento diventa veramente difficile, ma tatticamente, che tipo di giocatori vedresti come inseribili nel gioco di Grassadonia, magari nel mercato di gennaio? Adesso io non vedo tutte le squadre della Serie B della Lega Pro, però oggi cosa ho visto sostanzialmente? Che quando tu copri le spalle, ma coprire le spalle si intende vive Sogi, non l'abbiamo visto come giocatore di movimento, tipo Altobelli o tipo Castiglia. Noi se abbiamo giocatori come Germano, Castiglia, lo stesso Altobelli, che fanno tanto movimento e lasciano un po' nel centro, nel varagico del campo, vive, senza muoversi molto. Vives può fare tutti i 90 minuti con una certa lucidità, perché come diceva giustamente Paolo prima, Vives ce l'abbiamo noi, ce ne sono pochi in Serie B. Io in tutte le squadre che ho visto, dal Frosinone, dal Bari, al Foggia, non ho visto un giocatore di spessore tecnico e di qualità sopraffina come Vives per la Serie B. Quindi se riusciamo a tutelare un po' Vives, non serve poi molto, perché abbiamo una buona panchina anche per quanto riguarda gli esterni, perché i due esterni sono totalmente cambiati rispetto alla partita con il Foggia, ma non è cambiato di molto il valore della squadra. Anzi, oggi è stato un valore aggiunto, perché la squadra fa della sua qualità migliore, la gatta, la corsa, e poi se fa anche gol, tutto di più. E poi ti ripeto, io sono convinto che quando metti Ghiglione, come diceva Paolo, che è un esterno alto, lo metti esterno basso e fa una figura eccelsa, perché oggi, secondo me, a parte qualche svarione nel primo tempo, ha fatto veramente una grande partita Ghiglione, soprattutto nel secondo tempo. Insomma, io legati, l'attuale legati, l'attuale Bergamelli e anche lo stesso Mammarella non li cambierei, perché comunque sono diversi anni che giocano insieme, a parte Bergamelli, quindi io starei così, non c'è da, il calcio non lo inventa nessuno se non Sarri, no? Che poi Sarri fa il 4-3-3, ma qui entriamo in un'altra dinamica, no? Io Sarri lo stimo molto, ma se Sarri viene a mancare Goulam, no? Poi subisce il Manchester City, no? E non è un giocatore che ti può determinare una squadra. Per Sarri sì, perché lui ha questo 4-3-3, quindi fondamentalmente poi il calcio è veramente una cosa molto elementare, se è in 11 contro 11 ci sono altri schemi, però se è sempre 11 contro 11 e se tu ti difendi bene, come si è difesa oggi la Provercelli in certi momenti della partita, ma si è difesa benissimo e nei momenti si difendeva nella metà ecco Paolo, noi tutte le volte parliamo di questo mercato di gennaio e tutte le volte diciamo che ricorrentemente si cita un giocatore per reparto necessario a questa squadra, un difensore, un centrocampista e probabilmente un attacco. Oggi dall'altra parte c'è un attacco abbastanza importante, no? con Di Mariano e Dacruz che non ha combinato più di tanto. Da questa parte qua avevamo un Mora, Rajcevic e Firenze, Firenze che ha avuto la sua occasione, Mora che ha segnato e un Rajcevic che si è battuto come un leone. Tu cosa vedresti bene in questa Provercelli dal punto di vista degli inserimenti di gennaio? Ma insomma ti dico ripetisco che oggi la squadra ha fatto un secondo tempo veramente notevole di grande spessore dove hanno giocato tutti ma veramente tutti molto bene. Su un giocatore per reparto non sono d'accordo perché se c'è una cosa da dire che di sicuro ha fatto Grassadonia è stato il recupero di Vayushi che veniva da un anno fermo e di Castiglia che Longo non utilizzava quindi ha già recuperato due giocatori importanti adesso c'è fuori un giocatore che era stato preso proprio negli ultimi giorni di mercato per cercare di dare un'identità alla difesa ed è Gidai e speriamo di vederlo a più presto però ripeto in difesa la Provercelli ha cinque centrali e ha mi sembra sette esterni quindi andare a prendere un altro difensore mi sembrerebbe veramente assurdo a centrocampo per me a centrocampo non è una questione di qualità dei giocatori che ci sono è la questione di numeri perché forse è un giocatore in più a meno che in queste partite da qua alla fine del girone d'andata i giocatori che abbiamo visto poco i pugliesi i grossi vogliamo considerarlo centrocampista o difensore non lo so se lo consideriamo difensore addirittura difensori centrali ne abbiamo sei quindi se ne sarebbe qualcuno da mandare via non qualcuno da andare a comprare al centrocampo invece io penso che un giocatore ci manca perché non so Rocca pugliese bisogna vederli però un giocatore per fare numero ci manca il vicevives che non è una cosa semplice da dire troviamo il vicevives in attacco oggi abbiamo visto Polidori un quarto d'ora l'altra volta abbiamo visto un tempo si tratta di capire di tutti quelli che ci sono se andiamo bene così e che eventualmente che gioco vuole fare grassa donna il campionato è sempre la solita serie B la solita bestia la settimana scorsa sembravamo destinati ad entrare in una crisi profonda questa settimana abbiamo vinto non abbiamo fatto nulla però siamo sempre ultimi ma siamo in compagnia di altre quattro e la differenza che nel giro di tre punti per assurdo dovessi vincere la prossima in casa ne hai sette o otto che girano lì nel giro di pochissimi punti ma questa è la serie B per quello che dico che se bisogna integrare bisogna integrare bene non bisogna prendere quattro cinque sei giocatori o prendere giocatori così dicevo un comic una volta vambava prendiamone uno o due quelli che ci servono e se è il caso giocatori che non trovano spazio da noi darli da qualche altra parte ma questo discorso lo riserverei un altro corner mi godrei di più il momento perché il derby a Novara che non vincevamo da tanti anni l'abbiamo vinto in questi due anni abbiamo vinto due derby uno l'abbiamo pareggiato speriamo di vincere anche quello del girone di ritorno che sicuramente saranno punti importanti e sono contento anche del feeling che si è ritrovato tra i tifosi della Povercelli che oggi numerosissimi hanno seguito la squadra e la squadra e la società per me oggi la squadra ha giocato per Grassadonia cioè se tu dovevi avere un segnale da questa partita nel momento in cui sei così mezzo e mezzo perché sei perso in casa 4-1 sei ultimo in classifica se non c'è lo sottolineo sottolineo quello che avevo detto all'inizio di trasmissione se non c'è questa grande prova del gruppo il gruppo oggi la squadra ha giocato per l'allenatore la società ha confermato l'allenatore quindi sappiamo cosa ci aspetta nelle prossime settimane la questione ora è trovare la continuità e non è facile in questo campionato perché sabato prossimo hai l'Empoli l'Empoli è una corazzata che retrocessa dalla Serie A si è presa sui trentina di milioni di paracadute in parte gli ha usati gli ha usati non lo so ha comprato molto l'Empoli si è rinforzata è una squadra molto molto forte come organico ma la Provercelli ha dimostrato che anche con squadre forti non ha come giustamente ricordava prima Walter non ha demeritato ha sbagliato la prima col Frosinone perché comunque è una squadra molto forte il Frosinone ma è una squadra che praticamente gioca insieme da tre anni invece la Provercelli in quella partita è andata con otto undicesimi nuovi otto undicesimi nuovi lo sta dimostrando il Milan in Serie A non vai da nessuna parte perché questo è un gioco di squadra e le squadre non si fanno in poche settimane e ci aspetto un trittico importante Empoli Pescara e poi in casa Lentella ma io ho sempre visto io mi ricordo il campionato dell'anno scorso quando affrontammo le prime della classifica si fece molto bene quindi come diceva Paolo la Serie B la Serie B è un campionato un po' un po' così insomma dipende molto dagli episodi per cui ma io tornando un attimo sul gruppo che diceva prima Paolo tra giocatori Grassadogna e tutto il merito è soprattutto dell'allenatore che riesce a creare un gruppo riesce a condividere con i propri giocatori gioie e dolori come sono stati più dolori in questi primi due mesi e vuol dire che se c'è il gruppo il merito il grande merito dell'allenatore e anche della stessa società che ha fatto quadrato intorno a questo allenatore perché io non dimentico quattro partite tre partite si parlava già dell'esonero da parte non della società ma di altri di Grassadogna perché poi iniziano a uscire come l'anno scorso quando Lungo è arrivato alla Provercelli un anno fa cosa si diceva viene qui a iniziare a fare l'esperienza da professionista ma chi summa pià abbiamo visto poi chi abbiamo preso che l'anno scorso ci ha salvati e quest'anno è primo in classifica Frosinone perché non è così come si può dire direttamente proporzionale che se tu spendi sei primo in classifica non è così assolutamente per cui noi è vero come diceva Paolo abbiamo incontrato il Frosinone con otto undicesimi nuovi ma ricordo anche a Paolo che oltre agli otto undicesimi ci mette anche l'allenatore che era nuovo quindi l'allenatore è fondamentale delle volte secondo me io non sono uno di quelli che l'allenatore conta al 20% non è così perché se contasse veramente il 20% allora l'Inter che ha cambiato su 11 giocatori giocano tre nuovi barra due nuovi ogni tanto allora l'allenatore si vede l'impronta lì ma adesso torniamo sempre in serie A torniamo in serie B io do grande merito a Grassadonia assolutamente perché oggi comunque sia erano giocatori che l'anno scorso non c'erano Bergamelli non c'era Firenze non c'era Rajcevic non c'era in mezzo al campo scusatemi c'era Palazzi Emanuello l'anno scorso titolari e quest'anno non ci sono più per cui Ghiglione titolare l'anno scorso non c'era ha fatto un grandissimo lavoro l'allenatore e deve essere sotto di tutti e io mi aspetto di chi ci segue che se dovesse andare male con Lempoli come ha ricordato prima Paolo Lempoli ha preso quasi 30 milioni di euro io non vorrei che tra una settimana no è da cambiare tutto è da mandare via l'allenatore non è capace presidente di qua Varini dimetti assolutamente no e mi auguro di no sì è un po' di settimane che ci sono una serie di contestazioni anche lo stadio il presidente piuttosto che la dirigenza in effetti forse è il caso di provare a tifare veramente per questa squadra e provare a uscire dal pantano tra l'altro scusatemi ma io dico solo questo c'era Provercelli Foggia Provercelli 10 punti Foggia 11 punti ma si giocava in casa a noi o giocava in casa al Foggia tutti se lo chiedevano c'erano mille persone a tifare Foggia e non erano primi erano penultimi qui bisogna prendere spunto per migliorarsi da queste cose non da altre cose perché se noi stessi critichiamo ma critichiamo cosa? chi? che se va via questa dirigenza ritorniamo in interregionale siamo consapevoli di questo o no? lo siamo consapevoli e allora basta con le critiche no? se sono critiche costruttive penso che possono andare bene per tutti ma se sono critiche tanto per criticare e dare fiato alla bocca non vanno bene secondo me non vanno bene perché le critiche devono essere costruttive se no tutti allo stadio e poi si critica invece non venite allo stadio e criticate chi viene allo stadio non dà non dà un attimo di pazienza alle persone che lavorano con questi giocatori da tre mesi quattro mesi e poi se i risultati ci sono alla fine dell'anno si fanno poi gli abbonamenti dopo quattro anni di Serie B e gli abbonamenti sono sempre quelli non vi capisco io che frequento i muri social avevo proposto che può parlare soltanto chi va allo stadio perché poi chi la partita la vede regolarmente alla televisione piuttosto che nei bar perché almeno il biglietto è gratis ecco forse questi non avrebbero il diritto di criticare poi ci sta che le chiacchiere da bar si facciano ci sta che si critichi secondo me tante volte bisognerebbe riuscire a non trascendere ecco come è capitato nelle ultime partite allo stadio dove passa massimo secondo e viene bersagliato piuttosto che i giocatori vengono vengono così sbeffeggiati dalla dalla tribuna ma allora la classifica è estremamente corta nella parte bassa ci sono il Cesena Lascoli la Ternana e la Povercelli 13 punti il Foggia 14 insieme allo Spezia la Virtus Entella e il Perugia e poi a 16 Brescia Avellino e Pescara 17 insieme a Novara tutto sommato il tempo c'è siamo sicuramente ancora nella zona bassa della classifica siamo ancora nella zona dei play out non siamo più ultimi con una scherza settimana ogni partita sarà una battaglia da qua alla fine come sempre è stato come sempre è stato come sempre sarà in questo campionato io adesso ho visto scorrere la classifica e mi viene in mente viene in mente una cosa che mi viene in mente tutti gli anni ma che è tipica proprio di questo campionato della Serie B dei punti che abbiamo regalato dei punti che ci sono stati segati da qualche decisione arbitraria non troppo non troppo diciamo corretta era un attimo essere a 16 o 17 come veramente un attimo a ritornare ad essere ultimi quindi io vedo dei miglioramenti vedo dei miglioramenti sono contento di vedere questi miglioramenti spero che i miglioramenti abbiano continuità spero che nelle prossime giornate la Vercelli riesca a trovare quella continuità che forse gli è mancata nelle due partite in casa dove pur giocando bene ha raccolto solo due punti con con le due partite in casa la Provercelli diciamo così con i due pareggi in casa aveva un po' così dilapidato la vittoria di Perugia in trasferta oggi la Provercelli con grande carattere è andata a vincere il derby in trasferta adesso deve guardare alle prossime partite perché occorre girare a sopra 20 punti per poi bisogna capire questo campionato perché tutti gli anni si fanno dei conti si fanno dei numeri si dice si stabilisce una quota salvezza che non è mai la stessa bisogna capire questo campionato che quest'anno è estremamente equilibrato l'ascoli oggi è ultimo in classifica con noi l'ascoli a noi ci ha scippato la partita non avevamo giocato bene ma c'era scippata grazie a qualche decisione un po' strana l'ascoli due settimane fa veniva decantato come una squadra di giovani che poteva essere la sorpresa del campionato questo campionato è così è un attimo essere a metà classifica è un attimo essere ultimi un attimo essere a metà classifica è un attimo essere primi è un attimo trovarsi fuori addirittura dalla zona play out ci vuole grande compattezza e proprio la compattezza che oggi la Provercelli ha dimostrato domanda mi lascia ben sperare per il futuro ecco lascia soprattutto ben sperare questa vittoria importante nel derby lascia ben sperare diceva Walter anche per riportare il tifo allo stadio uno tifo che spinga la squadra per tutta la partita come ha sempre fatto la curva ma così anche le tribune e le gradinate insomma vi aspettiamo allo stadio la partita con Lempoli tutti insieme a noi a gridare forza la partita